Ciao a tutti fringuelli, l'amore per le luci da bicicletta mi ha portato a comprare due set di luci Raz Pro Smart Tail Light. Sto parlando di un fanale comparto posteriore ricaricabile tramite USB. Partiamo dalla scatola. Che cosa c'è nella scatola? Beh, abbiamo il fanale posteriore, il Raz Pro, il cavo di ricarica magnetico con connessione USB di tipo A e l'innesto per il fanale. Abbiamo la staffa RX1 per Regisella e la seconda staffa RX2. Andiamo adesso a vedere le specifiche hardware del fanale. Ha una luminosità di 60 lumen, connessione USB di tipo A con innesto magnetico, batteria agli ioni di litio, ricaricabile con un tempo di circa 2 ore, dimensioni 41 mm x 41 mm x 19 mm e un peso di soli 20 grammi, quindi leggerissimo anche per tutti i maniaci del peso. La durata in modalità rosso-lampeggiante 24 ore, la modalità in rampeggiante rosso lento 46 ore. Per spengere il fanale basterà semplicemente premere a lungo il tasto e alla successiva accensione tornerà direttamente all'ultima modalità di illuminazione impostata. Per quanto riguarda l'hardware ci sono ancora due cosette da dire. La prima è la sporgenza del twist lock che sicuramente aiuta ad innestare il fanale sulla staffa e l'altro è il piccolo connettore magnetico che appunto essendo magnetico rende la ricarica molto più semplice. Ci sono altre funzioni che rendono la RADS Pro molto interessante. La prima è quella di poter sincronizzare il lampeggio con gli altri RADS Pro nelle vicinanze per aumentare la visibilità del gruppo. Ad esempio uscite in gruppo con 5-6 atleti, se ognuno di essi ha una di queste luci sulla sua bicicletta queste si sincronizzano in modo automatico. Attenzione, un'altra caratteristica che mi piace tantissimo di questa luce è l'avviso di frenata. Ci sono degli accelerometri all'interno di questo fanale che rilevano la decelerazione e commutano la modalità di luce da fissa in frenata. Questa luce è una luce smart, è una luce intelligente ed è in grado di capire se il primo ciclista davanti a voi sempre che abbia montato questa luce ovviamente sta attraversando un dosso o una buca. Bene, in questo caso il fanale cambia colore e dal rosso diventa bianco. Per mantenere il fanale attivo per lungo tempo senza scaricare la batteria questo dispositivo è dotato di un sistema di autospeggimento che si spenge dopo 4 minuti dopodiché appena sente il movimento grazie a suoi accelerometri si riattiva normalmente. Non solo, oltre a questo sistema molto intelligente è dotato anche di un sensore di luminosità. Quando le condizioni di luce lo permettano il sensore si spenge automaticamente. Inutile dire che il fanale posteriore Razz Pro è controllabile attraverso l'applicazione. Infatti tramite l'applicazione si possono gestire e selezionare i colori la modalità del flash, lo scenario, ovvero se siamo in modalità mountain bike, strada o casco sempre attraverso l'app si può attivare o disattivare il controllo intelligente quindi il controllo di frenata e il controllo di ostacoli sul percorso. Si può attivare anche la modalità squadra come dicevo prima quindi sincronizzare tutti i Razz Pro di tutti i componenti della mia squadra. A questo punto una volta che è ben ricaricato lo devi abbinare al tuo smartphone ti devi scaricare l'app Sharnen Sport in questo caso ti chiederà di creare il tuo profilo con un login accetta tutte le impostazioni sulla privacy e dopodiché ti si apre un ottimo e semplice pannello di controllo. A questo punto puoi davvero sbizzarrirti all'interno del menu dell'applicazione per scoprire tutte le modalità di utilizzo e di colori di cui dispone questo fantastico fanalino posteriore. Una volta che avete installato il vostro fanalino posteriore sulla vostra app ed è stato riconosciuto non vi resta che montarlo sulla vostra bicicletta. Ci sono diverse soluzioni, potete montarlo direttamente sul tubo reggisella o sui binari della sella in questo caso dovreste andare a cambiare le vostre staffe. In conclusione ragazzi se lo dovessi confrontare con tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione della posizione che ho a casa posso garantirvi che questo fanalino posteriore di Razz Pro aumenta incredibilmente l'utilizzo dei fanali posteriori. Mi piace tantissimo, devo essere sincero, la possibilità di sincronizzare più fanali con altri utenti che contemporaneamente con me si allenano e che sono dotati anche loro dei fanali Razz Pro. Questa la trovo una cosa molto interessante e soprattutto trovo molto interessante il fatto che questo fanalino dotato di accelerometri possa individuare quando sto frenando e quindi segnalare a tutti i componenti del mio gruppo una situazione di pericolo. È incredibile che un oggetto del genere costi circa 40 euro, mi sarei aspettato di pagarlo molto di più quindi ragazzi che dire io fossi in voi farei un pensiero su questo oggetto o nel quel caso stiate cercando un fanalino posteriore intelligente non fatevi scappare il Razz Pro Smart Tailight perché ne vale davvero la pena. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buonanelmente alla prossima, ciao!